Ma basta, 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 non ne posso più, fare l'attore è un mestiere snebbante, proprio mi snebba, mi snebba. Non voleva fare l'insegnante, Leo, fino a quel fatidico poggiare i piedi sulle tavole del palcoscenico, il colpo di fulmine che vale una vita. Dal debutto a 14 anni, con una parte in Morti senza tomba, di Sartre, che gli vale l'attenzione di Mario Giusti, direttore dello stabile di Catania, fino all'attuale scrivano Bartleby in teatro, per Leo è stato un susseguirsi di ruoli ed esperienze diverse, tutte affrontate con lo stesso rispetto e serietà. Il varietà, il cabaret, come i film da Oscar o il teatro, dove ha recitato in circa 100 lavori. Amato da registi come Loi e Tornatore, che l'ha voluto in nuovo Cinema Paradiso premio Oscar. E poi la radio, il doppiaggio, la televisione, con il sudalizio insieme al gruppo del bagaglino, la culla della signora Leonida, uno dei suoi personaggi comici tanto più chiassosi, quanto più interpretati da un timido. Leo, poliedrico e sempre profondo, ha ricevuto tutti i riconoscimenti possibili, ma non rammenta mai i suoi allori, un po' come nasconde i quadri e i souvenir che ama comprare. Severissimo con se stesso, disponibilissimo con gli altri, generoso a telecamere spente, ritroso a raccontare la sua vita come fosse una fiaba, la mia, dice, è un'avventura. Per lui conta l'uomo di adesso, con le sue debolezze, illusioni, certezze, il suo impegno sociale, un po' come fossero tutti fili d'erba, mossi dal vento, ma forti nelle radici e capaci per questo di affrontare le intemperie che prima o poi arrivano. E allora, per Leo, bisogna imparare a giocare di più con la vita e se cadi ti rialzi, ti aggiusti e dopo un attimo ricominci con un bel sorriso. E Leo Bellotta è qui, benvenuto. Buona domenica, la domenica è un giorno di festa. È vero, è una grande festa averti qua con noi. Allora, protagonista di Bartleby lo scrivano, di Francesco Nicolini, regia di Manuele Gamba. Più che di Francesco Nicolini, che ha fatto la drammaturgia, è del grande storico Herman Melville, quello che ha scritto Moby Dick. Moby Dick, esatto. E sei in tournée? Da parecchio tempo, da parecchio tempo. È dal 2019, ha debuttato al Napoli Teatro Italia Festival, poi siamo andati in tournée, poi c'è stato un stop da pandemia. Due anni e mezzo di fermo e molte compagnie soffrono e hanno sofferto il teatro, il cinema. E adesso abbiamo ripreso da tre mesi a questa parte, in giro per tutta l'Italia. Lui dice sempre, avrei preferenza di no. È un personaggio che dice, nel suo racconto, è una commedia drammatica, avrei preferenza di no. Non dà soluzioni, non dà indicazioni, non dà messaggi particolari, però sicuramente smuove il fantasmino che c'è in ogni spettatore, l'essere vigliacco che nascondiamo. E che Gullotta è quello che interpreta? No, Gullotta è una cosa. Leo Gullotta, io divido sempre la vita dal lavoro. Sono due cose distinte e separate che non si devono mai mischiare. Sono molto contento perché interpretare un personaggio, cinema, teatro, televisione, quello che volete, interpretarlo significa ogni volta andare a cercare sul copione quell'anima di quel personaggio che non c'è scritta in nessun copione. La difficoltà, la capacità, al di là del talento, è proprio questa. Ma soprattutto rispettare il pubblico prima di ogni altra cosa. Non essere falso, non essere finto, non essere furbo, ma donarsi con lo spettacolo che si fa. Poi la vita è un'altra cosa. E il pubblico è tornato con grande partecipazione al teatro? Fa fatica, in Italia ci sono parecchi problemi, molti teatri privati soprattutto, perché gli stabili non hanno subito nessun problema. È stato dato tutto quello che il Ministero della Cultura doveva dare. Il problema è stato con i privati. E ci sono state conseguenze anche importanti sul piano dell'occupazione? Pensi che per due anni e mezzo siamo 80.000 persone, le persone dello spettacolo, teatro, cinema, televisione, editoria. Due anni e mezzo fermo, senza nessun tipo di aiuto, se non qualche lemosina ogni tanto. E quindi tornare al teatro è una cosa molto importante per qualsiasi città. Una città senza teatro e quindi senza spettatori è una stalla, ha scritto qualcuno. Gravioso. Allora, Catanese, sei tornato a Catania. Torno sempre. Torni sempre, vero? Perché? Ma innanzitutto perché è la tua radice. Poi guardi il mondo, un attore deve guardare, girare il mondo, avere punti di riflessione, di guardare la vita, il cielo, la terra, un viso, un bambino, un fiore. Se no quando lavori a che cosa ti puoi ispirare? Se no uno fa l'impiegato al Catasto, insomma, senza nulla da dire per quanto riguarda gli impiegati al Catasto. Ultimamente a Catania le cose come sono camminate? Come trovi? La Sicilia? Questo sud? Dolente. Dolente, problematica. Come se si facesse fatica ad avere una nota nuova, diversa. Io credo che dopo la pandemia, tutto quello che c'è stato prima, dobbiamo annullarlo. perché i tanti tagli alla sanità ci ha fatto trovare come ci ha fatto trovare, i tanti tagli alla scuola, all'università e quindi i giovani. L'assurdo principio del numero chiuso in medicina per tanti giovani non ci ha fatto trovare i giovani medici. Insomma, problemi. Dobbiamo pensare in un modo diverso post-pandemico. Dobbiamo avere anche progetti veri. Da 30 anni l'Italia ferma con i progetti. Quindi progetti veri e autentici che ci portano in avanti. Però c'è sempre ancora un po' di diffidenza, considerazione. C'è diffidenza generalmente verso il nuovo. E questo è proprio il gatto palco. E verso il sud? No, non ho capito. Verso il sud? Il sud fa fatica. Fa fatica perché c'è sempre questo principio. Il fatto che tantissimi giovani che hanno studiato, che si sono preparati, sono stati costretti, molti, non tutti, ad andare via, questo la dice lunga. Non possiamo non guardare queste fenomenologie, ammesso che siano fenomenologie. Dobbiamo avere... E già i nostri giovani, il sud, quindi tutto in generale, sono più brillanti, sono pronti e hanno una mente un po' più aperta. Non ne faccio una questione di divisione, per carità, lungi da me. Però di questo trattasi. Parliamo di te. Come si è capitato al Bagaglino? Come è stato? Ricerca di lavoro. In Italia c'è questo vezzo, questa abitudine che non c'è negli altri paesi. Devono dividere, devono timbrare tutti il comico televisivo, il comico cinematografico, l'attore drammatico. L'attore è attore. E per sua natura, nello studio, dovrebbe conoscere tutti i linguaggi di questo settore di lavoro. Quindi il linguaggio del teatro e quindi soprattutto, ad esempio, fra le tante cose, la voce è da arrivare all'ultima fila del teatro. Il cinema, che avendo poi una proiezione del tuo viso su questo schermo, 8x4 se non di più, quindi un'enormità, non puoi recitare come se fosse teatro, quindi è tutto molto più interno, più nell'anima. E così via, il rapporto col microfono, il rapporto con la voce, il rapporto di uno studio televisivo. Bisogna conoscere come in tutte le professioni. La signora Leonida l'hai inventato tu? La signora Leonida l'abbiamo inventato Castellacci Pingitore e io. Per 25 anni, per 23 stagioni televisive, un successo straordinario. Sono molto grato a quella trasmissione perché mi ha fatto entrare nelle case degli italiani. E a tutt'oggi, insomma, godo di questa stima, di questo affetto. ed è stata una trasmissione che sicuramente ha dato il là a tantissime cose, grande professionalità, un modo di lavorare, ma ascolti, visto che oggi si parla tanto di ascolti delle varie trasmissioni, ascolti alla stella, 14, 13, 15 milioni. Mamma mia. Senti, poi hai fatto tantissime cose con Pingitore, ancora Biberon, Crancaramel, Bucce di Banana, è impossibile? No, 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 quelli erano tutti i titoli della trasmissione, quella che tu poco fa hai definito l'avventura a Bagaglino. Quelli erano tutti i titoli di anno per anno. Per la prima volta si faceva uno spettacolo di varietà con professionisti da un teatro, quindi era una novità assoluta. Era questa striscia, come se fosse una striscia, un fumetto televisivo. La Carrà, l'omaggio alla Carrà. L'omaggio alla Carrà continua, una donna straordinaria, una amica vera, autentica. Questa sorpresa, questo schiaffo che tutti quanti, pubblico, amici, abbiamo avuto, non si sapeva di... Lo possiamo sentire un attimo? Sì, sì. Mettiamolo a tutto schermo, per favore. Non è molto elegante, devo dire. C'è Raffaella. Grazie, buonasera a tutti, siete stupendi, meravigliosi, eccezionali. Scusate, non riesco a trattenermi, perché prima c'era un ragazzo che veniva dall'Argentina. Chissà perché tutti i casi pietosi vengono dall'Argentina. Ci deve essere una fabbrica di disgraziati che non finisse mai. E adesso, prima di entrare... Rientriamo, rientriamo pure con Leo Gulotta. Sì, il ricordo va sempre, diciamo, alla piacevolezza di quei momenti, ma alla straordinarietà di un'artista autentica, qual era Raffaele. Che sapeva fare tutto. Si deve fare tutto come lei ha studiato. E' una parola studiare che in Italia non si digerisce bene. Ci fa venire un po'. L'Italia è il paese dell'arte d'arrangiarsi. Dai, che affare? Ma sì, intanto mi chiedi sti so, va bene, tu l'ico io, tutto così. Senti, parliamo dei tuoi grandi successi anche al cinema, con Tornatore, con un nuovo cinema parecchio. Tornatore, Tognazzi, bevi l'acqua... Ciac d'Oro, un nastro d'argento, che bellezza, che carriera magnifica. Diciamo che sono stato... Io nasciò a Futtino, a Catania, un quartiere popolare, e naturalmente la timbratura mia della vita è sempre quella. Com'è un Futtino? E' un quartiere popolare, lo è stato sempre, ma al di là dei problemi, con la dignità, una bella dignità, come tutti i quartieri poveri. Quindi questa timbratura è mia, ce l'ho dentro. Quando nasci in un quartiere così, la vita ti si presenta sempre prima del dovuto. Prima del dovuto, le tue esperienze più significative sono tutte belle, ma quelle che... Tanto, guarda, io sono stato un bambino e oggi sono una persona curiosa. E credo che senza curiosità, compresa anche la professione, non si fa nulla. Curiosità vuol dire sapere, vuol dire voler conoscere, farsi spiegare, andare oltre, cercare di capire. E in questo momento il mondo, per quello che sta accadendo in Ucraina, si deve cercare di capire. E tu cosa hai capito di quello che è capitato? Tanto una guerra assurda, folle, anche se è iniziata nove anni fa. Non ci sapeva nulla, però è molto strano che sia la comunità europea sia la Nato. Insomma, secondo i risultati di adesso, purtroppo, pare che non se ne fossero accorti. Quando fu occupata la crimine. E questo è un grave problema adesso. Adesso è il dolore, ma soprattutto dirsi perché. Perché. Non c'è un perché, è un'assurdità, è una follia. È un autentico genocidio quello che sta accadendo. Il dolore. E poi il sapere i bambini, voglio dire, 917 bambini, almeno fino adesso, se non di più, morti per questa maledetta e assurda guerra. Questo è veramente terribile. Torniamo alle tue esperienze con i tuoi colleghi più illustri. C'è un filmato che vorrei farti vedere. Con Nino Manfredi. Ho lavorato tanto con Nino. Persona, a parte l'attore che conosciamo, persona bellissima, meravigliosa. Vediamo un po'. Ciao, buon anno. Ciao. Che c'è, regista? Eh, come non c'è. Dottore, c'è Simone dall'agenzia. Dottor Baddini, buongiorno. Oh, Simone. Chi c'hai da propormi? Ah, tante belle facce, tipi misteriosi, attori di teaccio, divi saniere. No, ma mica via col vento, è uno shorts pubblicitario. C'è uno che esce da un ascensore e deve dire una frase piccola. Ah, parlante. Ah, ho capito. E quanto è disposta a spendere la produzione? Poco, al massimo mezzo milione. Se ce ne mette un altro mezzo, con un milione ci porto Marco Salviati. Salviati? Salviati. Ma quello è un grande attore, un protagonista, non ha voluto mai fare la pubblicità. Ma sei sicuro che ci viene? Se ce lo dico io che ci viene, ci viene, no? Eh, magari. Oh, Simone. Sì, dottore? Ma Salviati non so quattro o cinque anni che non lavora più. Luca, c'è che beve, beveva. Mi aspetti qua. Mi abbiamo preso un altro momento, un altro, un altro brano. Allora, avanti. Possiamo rientrare. Eccolo qua. Di questa tipologia di agenti, tra virgolette ovviamente, che si occupano del lavoro nello spettacolo, ce n'è una marea. Appunto, come dicevo prima, per campare. Naturalmente la qualità c'è in qualcuno, ma è l'eccezione che conferma la regola. E qui c'è l'incontro, vediamo, vediamo se riusciamo a, ecco. Vediamo l'audio anche se. Ma come Simone, Simone, tu agende. Ah, Simone, avevo capito, Simone. Se non mi dici Simone, come faccio a capire? Quindi hai fatto tante cose con Nino? Con Nino tantissimi. Spaghetti House, il primo film che parlava di emigrazione confusa con terrorismo. Marco! Ti passiamo l'audio, grazie. Abbrassiamo l'audio. Mi sei discusso. Spaghetti House. Un film assolutamente importante, con tantissimo successo di questa tragedia a Londra, di questo ristorante italiano. Ed era il primo film che parlava di emigrazione confuso con terrorismo. Quindi anche lì un interrogativo preciso nel vedere il film. Ma, altri film, film cult addirittura, Testo Croce con la regia di Nanni Loi, c'è l'episodio di Nino che ancora oggi vive dappertutto, anche con l'aiuto delle televisioni, che viene dato proprio quel... Certo, 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 quel frammento dove voi due siete insieme. I problemi di Napoli che hai raccontato in Blackout nel 1980. L'inizio che voi avete visto in questa Domenica gioiosa risale esattamente alla mia prima apparizione televisiva in un programma firmato Giancarlo Nicotra per Rai 1, ed si chiamava Blackout. Quel personaggio che facevo era un personaggio già provato negli spettacoli di cabaret che facevo, che non erano legati comunque allora alla barzelletta come oggi, ahimè, si fa spessissimo, ma all'osservazione dell'omino, diciamo che in questo caso viene dal sud, con osservazione verso il sociale. Sentiamo un attimo. Un attimo di audio. Andiamo al nord, vi parlerò del nord, esattamente di Napoli. Quella era la, questa è la rappresentazione di quello che si dice il grammelò, di quella lingua inventata dai comici del Medioevo per non far sentire ai cosiddetti padroni di parlare male. Ai potenti. E quindi dirsi qualcosa che sembra una lingua ma non lo è. Ecco appunto. E a tradizioni luse, Dario Fo, Proietti, Dalla, quando cantava lo faceva sempre. Poi hai fatto il doppiatore anche con grandissimo successo? La preparazione che ho fatto il doppiatore e il doppiaggio fa parte di quello che dicevo prima, cioè di quella preparazione che ogni attore dovrebbe conoscere. Eh sì, perché hai interpretato personaggi importantissimi, no? Sì, sì, film anche importanti. L'ultimo è stato The Irishman, discorsese, pesci. Ma io non dirò mai, non dico sono la voce di, io sono la mia voce che di volta in volta faccio, come posso dire, da traduzione simultanea su ciò che accade nello schermo. E bisogna seguire pedisseguamente fiati, intenzioni di quello che accade nello schermo. Anche nell'animazione, vediamo un attimo. Ah sì, l'era glaciale fra le tante cose. E non solo, non solo, qui ce n'è un altro, vediamo, lo possiamo vedere. Io mi fidavo di te, Niki, tu sei stato accolto in casa mia, hai mangiato la mia tavola e la nonna ti ha preparato. Ma niente, è uno dei tanti prodotti di animazione straordinari che l'America ci regala ed è sempre un piacere per grandi e piccoli. un personaggetto che c'era dentro, che faceva un po' il verso a quel marlombrando del padrino. Ah, con la voce sempre! Quindi ecco perché tu dici non è il doppiaggio, ma è fare l'attore... Il doppiaggio innanzitutto è un fatto tecnico, cioè se non sai la tecnica non... è una delle tante specializzazioni che l'attore deve avere e quindi, a parte il talento, se noi guardiamo per un attimo o ci ricordiamo dei film degli anni 50, 60, i film di Bianco e Nero, erano tutti film doppiati che venivano dall'America, doppiati da attori italiani, tutti attori italiani, non so, uno per tutti, Paolo Stoppa, che doppiava Richard Widmark e quella particolarità di essere attori, ecco, quel momento di doppiaggio lo fa vedere molto, molto alto. Non è soltanto il doppiaggio, non è soltanto una bella voce, molti sono convinti di questo, non è chisso. Vorrei un attimo di te, anche se brevemente, però tu hai, come dire, dato anche un contributo ai, diciamo, alla crescita dei diritti civili nel nostro Paese, è vero? L'ho sempre fatto, lo trovo una cosa molto precisa, soprattutto per chi magari ha quel tanto di notorietà, è far passare un messaggio assolutamente importante, i diritti sono la base per un vivere per un Paese democratico, però si deve fare, si deve dire, non andare oltre, perché poi si diventa fissati su delle cose, combattere i diritti, far sì che il prossimo, i giovani, possono capirlo sempre di più, ma i giovani sono molto più pronti, lo hanno superata questa nota, lo sanno, lo sanno moltissimo cosa sono i diritti, sono i grandicelli che ancora fanno fatica. C'è ancora pregiudizio? Assolutamente, c'è, naturalmente si sono fatti passi da giganti, ma il pregiudizio c'è, il pregiudizio è ignoranza, ignoranza vuol dire ignorare le cose, gli argomenti. È vero che qualche volta ti ha danneggiato questo? Sì, ma mi è stato tolto del lavoro, parlo di anni e anni fa, ma la cosa non mi ha toccato, io metto un punto e vado a capo, bisogna andare avanti, non bisogna farsi trascinare da questa nota, sì è accaduto, bene, ok, e allora andiamo avanti e cerchiamo di adoperarci, adoperarmi, affinché qualcosa possa essere conquistata e qualche cosa si è conquistato, non soltanto forse merito mio, ma merito di tante altre persone che a tutt'oggi fanno anche un po' fatica, ma ci sono, cercano di far capire. Progetti futuri dopo? A saluti, prima di ogni altra cosa, che è un progetto importante, soprattutto a 76 anni, ripeto, mi reputo un fortunato nella mia vita sotto tutti i punti di vista, spero di essere sempre brillante con la testa e considerare sia nel bene che nel male che la vita è una cosa meravigliosa, non vi mettete mai da parte, cercate di superare le paure e se avete qualche domanda, domandatela sempre e soprattutto cercate di regalare anche e non solo ai vostri figli amore. Leo Grulotta, l'ospite della Domenica. Buona Domenica, cose belle e buona vita a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti.